Non si avevano più notizie dell'anziana signora da qualche settimana. Dal suo appartamento, nel cuore del centro storico di Supino, in via Roma, non si vedeva uscire come di solito faceva in compagnia del suo cane. Il fatto ha allarmato un conoscente che si è rivolto così alla polizia locale del paese. È stato il capovigile, Dario Tucci, a fare la scoperta una volta entrato nella sua casa. La donna, Domenica Angela Schintu, di 88 anni, era riversa a terra e sanime. Qualche suppellettile, caduta a terra, ha fatto temere che si fosse trattato di un'aggressione finita male, magari per un tentativo di rapina. Ma gli inquirenti, che in un primo momento non hanno escluso nessuna pista, ora smentiscono categoricamente. A confermarlo, anche l'esame esterno della Salma, ora sotto sequestro. Si tratta di morte naturale. A rafforzare questa ipotesi sarà poi l'autopsia. I carabinieri della compagnia di Frosinone, sul posto, hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'accaduto. L'anziana si trova sdraiata o seduta su un divanetto, quando è stata colta da malore. Ha tentato forse di chiedere aiuto, tanto che si è alzata aggrappandosi al carrello TV. Un cassetto del mobile è stato trovato parzialmente aperto. Quando è arrivata in cucina, però, è caduta a terra, trascinandosi dietro la tovaglia del tavolo. Il suo cane, invece, sarebbe morto di stenti. La morte dell'anziana, così come confermato dal medico legale, è da attribuire ad un arresto cardiovascolare. Nessuna rapina, quindi. La donna indossava orecchini, una collana e nelli in oro. Nel cassetto del mobile TV, gli inquirenti hanno trovato il suo portafogli. Ed in camera da letto, altro denaro. L'abitazione dell'88enne è stata posta sotto sequestro. Solo un atto dovuto. È morte naturale. è naturale. La iOS È naturale. La iOS